Grazie a tutti. Le aziende sanno che siamo al penultimo posto, noi viviamo di marketing, statistiche e hanno fatto la cosa più importante che devono fare, hanno cambiato il senior management, il senior management delle aziende è stato negli ultimi anni stravolto perché siamo passati da senior manager che erano dei centri di potentati, le risorse umane non erano una funzione, erano un centro di potere, manager che sono completamente giovani con esperienza internazionale e che fanno evidentemente delle cose fortissime soprattutto per i giovani ma anche per chi già è in azienda. Io voglio parlarvi di due casi che sono qui, uno è il master al quale ho avuto il piacere di partecipare di Iveco e io avrei voluto invitarvi a vedere chi c'era di fronte come ragazzi, come qualità, come motivazione, come passione rispetto a quello che stanno facendo. Un'esperienza fantastica. Io vorrei farvi parlare con quello che era Michele Verna, l'ex direttore del personale Vodafone che si alza tutte le mattine e pensa che cosa fare ancora di più e di meglio per i propri employee. Io penso che le aziende si stiano ritrasformando. Naturalmente le aziende fanno parte della società, non è che vivono sulla luna. Allora qui ci sono due concetti, uno è il concetto del precariato, siamo tutti precari, i giovani e gli amministratori delegati. Quindi quando entrate in azienda salutate i vostri colleghi che sono i senior manager che sono precari come voi. Quindi non c'è più una stabilità, è un rapporto psicologico per la vita. Riesce a farlo solo Toyota dove ho lavorato, ma iniziano da bambini. Da noi c'è un rapporto un po' più utilitaristico, ma è molto chiaro, siamo tutti precari. C'è un ulteriore fatto, non ci sono più punti d'arrivo. Questo dà anche purtroppo qualche sensazione di disagio. Non è più un punto d'arrivo trovare lavoro, non è più un punto d'arrivo diventare i quadri, non è più un punto d'arrivo diventare dirigenti, non è più un punto d'arrivo fare l'amministratore delegato, non è neanche più un punto d'arrivo andare in pensione. È una società dove non si arriva mai. Si corre, si corre e si continua a correre. Questa è la verità e naturalmente questa verità la trovate anche nelle aziende. Ma da questo dire che le aziende sono una sorta di cimitero, io non condivido, francamente ho visto delle aziende fare delle rivoluzioni al proprio interno che sinceramente non mi dispiace. L'altra cosa, vedo che spesso il problema della retention, i ragazzi cambiano, ma non è che vanno perché vanno a giocare al Milan, perché da Amplifon vanno da Vodafone, perché da Vodafone vanno in Iveco e perché da Iveco vanno... È chiaro che sono ambiziosi, c'è una sana ambiziosità dei ragazzi, vogliono crescere, alle volte le opportunità sono meno di quella del passato, quindi io una cosa che non condivido dell'intervento fatto prima è che secondo me all'impegno corrisponde il risultato, all'impegno corrisponde il risultato. Nel breve può darsi che non sia così, ma nel medio lungo, purtroppo è ancora una legge che vale, chi si impegna ha il risultato e se non ha nella propria azienda lo ha fuori, quando vanno via le persone dicono io sono pronto, siete voi che non siete pronti, vado in un'altra azienda e lo fanno, e fanno bene, come diceva il mio collega, auguri, vuol dire che sei cresciuto in questa azienda, purtroppo non riusciamo oggi a darti un'opportunità uguale a quella che hai trovato fuori, vuol dire che anche quando andrai fuori porterai il nome dell'azienda dicendo sono riuscito a crescere, nessuno va via per lo stesso stipendio e per lo stesso livello, vanno via perché ti danno l'opportunità di crescere, quindi io penso che le aziende siano cambiando moltissimo e hanno un po' di bisogno ancora di quello degli americani, fresh blood, ancora un po' di sangue che entri dentro e che aiuti il cambiamento ancora di più, questo è anche il ruolo dei giovani, non è un ruolo passivo, entro dalle 9 alle 5, è un ruolo di stimolo al cambiamento delle aziende, perché le aziende devono assomigliare alla società, la società è veloce, cambia in continuazione e ha anche qualche sua caratteristica negativa, precarietà e non si arriva mai, bisogna correre. Direi anche in Amplifon c'è il doppio fronte, come dicevo prima, questa figura specialista dell'audioprotesista, ma c'è anche tutto il fenomeno delle acquisizioni, quindi della crescita anche esterna, abbiamo dei tassi di crescita interna molto elevati, ma anche dei tassi di crescita esterna significativi, fatti per acquisizione, è la multinazione italiana che compra all'estero e che naturalmente privilegia, almeno nella prima fase di integrazione, il fatto di inviare il management poi italiano, che è anche portatore della cultura aziendale, e quindi questo determina che ogni volta che c'è un'ulteriore crescita all'esterno abbiamo un problema, mancano le risorse, alle volte ci fermiamo su possibili acquisizioni, cioè il nostro freno alla crescita è proprio dato dalle risorse.